registrazione in corso quindi penso che possiamo iniziare ok ciao a tutti benvenuti in questa edizione di maggio del milano live coding milano live coding è una community nata nel 2015 per far conoscere il creative coding un po in tutta italia e in tutte le regioni paeselli piccolissimi queste serate ci accoglie we make che ha lo spazio fisico in cui facevamo le serate poi causa pandemia abbiamo dovuto virare per insomma per l'online ma presto nei prossimi mesi prevediamo anche la presenza fisica queste serate sono organizzate da codice inutile che associazione faccio parte io e anche matteo che anche l'ospite speciale di questa serata infatti se volete vedere il suo instagram o temate ci sono molte cose di creative coding visual molto interessanti quindi vi consiglio di vederlo passiamo dunque questa serata sarà il protagonista sarà la data sonification a se questo è il nostro fantastico logo di codice inutile poi dopo vi lasceremo tutti i link per andare a vedere tutti i nostri spazi spazio facebook eccetera ok passo a questa bellissima bellissima slide trippi perché noi comunque siamo fan delle cose trippi questa sera il nostro ospite speciale parlerà di data sonification che è la pratica di rappresentare dati attraverso il suono di solito siamo abituati a fare a vedere data visualisation cioè vedere i dati rappresentati da visual cose visive questa volta la cosa interessante è che è rappresentato dai suoni e quindi dovremmo aguzzare le orecchie per questa serata magari in futuro si potrà fare non so anche con gli odori coi profumi visualizzazione non saprei come rappresentare i dati con gli odori profumi ma per ora insomma in questa serata ci limitiamo insomma al suono e perché fosse interessato questa gif di un artista che si chiama con la moschie dopo vi metterò il link in chat è un artista che insomma fa questi queste gif trippi e questa mi pareva particolarmente rappresentativa insomma perché appunto dobbiamo stare con le con le orecchie insomma ben aperte ok io penso di poter dare interrompo la condivisione e do la parola al nostro ospite speciale che avete intravisto prima grazie mille allora vediamo di partire la presentazione e allora intanto vabbè io appunto sono anche uno insieme ad alca uno dei due che organizzano questa queste serate quindi immagino che chi ci vede più o meno mi conosca ma in ogni caso sono designer vivo a milano da da diversi anni dopo aver fatto il politecnico ho iniziato a specializzarmi tra virgolette pur continuando a fare un sacco di cose diverse che sono un po eclettico un po nella data visualization e a un certo punto visto che comunque mi piace la musica pur non essendo un professionista in alcun modo ho qualche competenza sparsa quella ho provato a ho iniziato a pensare di tramite il creative coding unire un po queste due passioni quindi l'interesse per il design dell'informazione della comunicazione e i concetti di musica che avevo perché appunto il codice creativa questa questa innata caratteristica di poter tradurre linguaggi diversi l'uno nell'altro quindi se adesso ok si quindi adesso condivido lo schermo e partiamo dalla tradizionale slide a tema ma in questo caso di solito abbiamo una visione abbiamo un buon ascolto e questi sono poi tre temi che voglio toccare quindi come dire chiudendo un po un cerchio di altri incontri che abbiamo fatto tra l'anno scorso e quest'anno abbiamo da una parte in generale l'idea di usare i numeri per creare delle cose delle esperienze artistiche in qualche modo e quindi come i numeri come entità state possono essere usati per fare diverse diverse appunto sono stati per controllare diversi aspetti di un'opera creativa il secondo punto invece più collegato alla data visualisation o sonification o quello che è i miei colleghi come diceva il che prima la chiamano perceptualisation nel senso di non solo di usare tutti i sensi ma o più sensi ma anche di usarli insieme in modo integrato e c'è un pochino di questo nel progetto che vi mostro dopo e il secondo aspetto collegato è non solo avere dei dati che provengono dalla realtà quindi dei dati che sono stati misurati in qualche modo ma dei dati che arrivano in tempo reale e questo è interessante proprio rispetto alla musica perché se io disegno una cartina ho bisogno di sapere qual è la forma di una della costa di un'isola per esempio e non avrò bisogno di sapere quanto varia minuto per minuto perché per qualche era geologica rimarrà la stessa invece se vogliamo lavorare con dei dati che cambiano in tempo reale come potrebbe essere vedremo magari dei dati climatici cambiano in tempo reale molto spesso e questo fa sì che a quel punto una sonificazione di questi dati quindi trasformarli in un linguaggio che è quello del suono che a sua volta cambia molto molto spesso in modo complesso nel tempo diventa molto interessante e poi vabbè una terza parte per farvi dire come appunto tutti questi aspetti si possono montare insieme perché deve diventare un sistema interattivo che funziona nel tempo appunto non serve non servirebbe un approccio più tradizionale e classico di aprire un software creare un qualche sistema un qualche rappresentazione e poi esportarla e appunto alla fine vi farò vedere in diretta come funziona questo progetto come minima introduzione però volevo iniziare facendo una classificazione delle cose di cui si parla quando si parla di musica perché appunto cercando di ragionare di musica in termini artistici ma anche tecnici per riuscire a utilizzare i dati al suo interno diventa importante capire quali sono gli elementi che ci sono dentro e li ho divisi qua più o meno a stima in tre categorie da una parte il suono quindi tutto quello che ha a che fare con la produzione del suono con uno strumento tradizionale o con la sintesi che sia digitale analogica in qualsiasi modo che formano tutti i tipi di musica che conosciamo quindi la dimensione sonora di come viene prodotta l'onda la dimensione che è l'organizzazione di questi suoni quindi quando si suona e quando si fa silenzio e qual è il tempo con cui vengono disposti questi questi eventi nel tempo la composizione e poi anche lì andando un po' a estendere il discorso tutto l'aspetto dell'acustica quindi in quale ambiente si percepisce il suono e come vediamo nel progetto dopo anche al ritorno quindi come l'ambiente influenza la musica che si va a riprodurre queste cose sono importanti nello specifico perché iniziano a darci l'idea che la musica sia fatta di tantissimi parametri e di tantissimi aspetti variabili si possono chiamare come vogliamo dimensioni e nella storia andando avanti con la tecnica si è iniziato a pensare che cercare di fare delle opere artistiche con la musica richiedesse di o comunque desse sempre più spazio più libertà per controllare questi aspetti in modo molto fine quindi andando molto nel dettaglio o controllare in modo come dire non istintivo per esempio usare il volume di un suono per controllare l'altezza di un altro che è una cosa che normalmente con degli strumenti tradizionali si può fare solo se i musicisti si mettono d'accordo di fare quella cosa nello specifico ma lo si può ottenere in modi diversi ma simili anche con le macchine. Queste tre immagini sono un po' come dire di nuovo un modo per fare una panoramica e chi le riconoscerà proveniendo da un background musicale piuttosto che tecnico informatico o qualsiasi altro potrà accogliere alcuni aspetti ma il senso è mettere insieme dei sintetizzatori analogici che avevano questo un sintetizzatore misto nel senso che ha una serie di controlli analogici che si possono manipolare direttamente con le mani e poi come quelli modulari ha la possibilità di collegare dei cavetti che sono esattamente quello che si fa poi nelle altre immagini in realtà per cui io ho un circuito che produce un segnale e uso questo segnale per fare qualcosa per modificare un altro circuito e questo è esattamente il discorso dell'automazione quindi invece che stare a girare la manopolina secondo per secondo come la volvi e pensare a cosa devo fare e farlo imposto un sistema che in automatico si regola al giorno d'oggi si fa sempre più spesso sono ormai unipresenti queste per esempio nelle digital audio workstation questa è Ableton c'è questa strazione delle automazioni quindi vediamo queste tracce che hanno queste onde sonore molto complesse ma che possiamo manipolare aggiungendo sopra modificando questa linea rossa e decidendo in modo grafico come il suono varia senza stare a modificare ogni singola frequenza una per una e il passaggio è quello di cui ci occuperemo questa sera ed è un piccolo snippet di codice in linguaggio ruby del tipo che si esegue questo in realtà credo sia sia uno degli esempi della documentazione splendida che c'è di di sonic pi che mostra senza stare entrare nel dettaglio with effects quindi l'uso di un effetto play quindi suonare delle note e poi delle funzioni control che dicono questo questa nota che sta avvenendo suonata deve variare in questo modo la controlliamo in modo che il suo volume salga o scenda piuttosto che l'altezza della nota piuttosto che in questo caso il parametri di questo effetto riverbero quindi anche per chiudere un po questa panoramica quello che si fa quando si cerca di fare della della musica generativa di questo tipo è come al solito in tutte queste discipline del creative coding fare una mappatura quindi si prendono alcuni input che possono essere appunto l'essere umano o chi per lui o lei che produce dei segnali con degli strumenti delle funzioni parametriche come dicevamo semplicemente collegando con un cavetto un oscillatore che in automatico produce il segnale di input oppure come vediamo in particolare questa sera dei sensori collegati a qualche aspetto della realtà che può essere il clima può essere la temperatura di una stanza può essere non so sono tanti esperimenti divertenti con le piante in cui si cerca di far suonare non so la chimica o la parte segnali elettrici delle piante e si prendono questi input e li si usa per collegarli a una serie di variabili qua ce ne sono alcune di nuovo ovviamente sono molte di più e molto più complesse ma che vanno a costituire poi la musica e quindi eventi nel senso di che cosa succede quando quindi possiamo avere un parametro secondo cui diciamo quando la persona schiaccia questo tasto sentiamo la nota quando uno schiaccia più no dall'altra parte possiamo avere tutto una serie di strumenti e quindi una produzione di suoni sintetizzati oppure un uso di campioni registrati che vengono controllati tramite questi input ovviamente il volume l'altezza tutti i parametri dell'onda sonora in sé e poi a livello di astrazione un po più alto anche come si fa come si realizza la composizione possiamo decidere che c'è un'introduzione e quando c'è un certo input si sviluppa l'introduzione poi quando passa un altro input passiamo invece a uno sviluppo e decidere di quanto vogliamo anche provare a giocare con tutta la tradizione che c'è sempre stata nella nostra cultura del mondo di composizione di come viene organizzato il suono e poi l'ultimo punto è simile a quello che citavo prima e appunto sono quelli che vengono permessi dall'evoluzione della tecnica degli ultimi secoli e mezzo che fanno sì che noi possiamo controllare in modo automatico tutti i parametri o comunque la gran parte dei parametri che ci sono dentro un uno strumento musicale in modo meccanico in modo informatico ok allora passiamo a parlare del progetto vero e proprio di cui sono a cui tengo molto perché è un progetto qui ho lavorato per la mia azienda o per l'azienda per cui che ha up per cui svelgo consulenze che ha tanti uffici in giro per il mondo in questo in particolare si parla dell'ufficio di londra che durante gli anni scorsi è stato deciso di riampliare e quindi con nell'ala nuova che è stata realizzata era dentro un edificio molto recente in cui sono stati curati appunto molti aspetti del sistema dell'edificio e questo comprende un po quello che si chiama giorno d'oggi smart building e quindi tutto quello che ha a che fare con la gestione dell'edificio tramite dei sensori dei sistemi automatici e che apre un sacco di possibilità in questo caso in particolare abbiamo lavorato sull'aspetto di confort dei lavoratori e quindi cercare di monitorare qual è l'ambiente in cui le persone lavorano e quindi in base a questo organizzare il fatto che le persone potessero prenotare e sapessero che ambiente troveranno esattamente nel posto di lavoro in cui scelgono di andare piuttosto che in generale avere un'idea di come cambia l'ambiente dal punto di vista per esempio della qualità dell'aria o della temperatura o di una serie di altri parametri all'interno dell'edificio cosa che in particolare appunto non è scontata giorno d'oggi perché uno dei parametri che normalmente era più stabile nel tempo c'è l'occupazione quante persone ci sono dentro adesso non è scontato visto che si lavora in gran parte da casa le persone si radunano piuttosto per fare delle riunioni che per passare la loro giornata alla scrivania da soli all'altro aspetto collegato a questo progetto è che c'è a Londra ma appunto attraverso l'azienda sparpagliata un po' in giro per il mondo un gruppo che si occupa di data personalization e quindi si cerca di portare dentro alle consulenze ingegneristiche architettoniche dell'azienda una serie di un po' di innovazione nel modo con cui si presentano i dati e ovviamente appunto avendo alle spalle tutta questa azienda capace di organizzare le infrastrutture quindi la sensoristica e l'epi quindi il modo di comunicare questi dati ha permesso di sviluppare questo progetto in modo molto più semplice di come sarebbe stato se avessimo dovuto farlo con qualsiasi altro sistema e di questo sono molto contento perché sennò appunto spesso volentieri con il creative coding si fanno delle innovazioni nel senso di si nuova il concetto però è molto più difficile trovare degli spazi in cui effettivamente ci siano i fondi e ci siano l'infrastruttura appunto per riuscire a realizzare delle cose che vengono poi che hanno poi questa scala perché poi è un'opera di creative coding che si diffonde in un ambiente vero in un ufficio vero e non solo sul web che come dire per me è un valore aggiunto questo per esempio è una come dire queste ne vediamo un altro esempio sono le dashboard che si trovano all'ingresso dell'ufficio e quindi questa è un'immagine statica ma questa figura sotto è un'animazione fatta in processing che agisce ai dati che arrivano direttamente in tempo reale dal dall'ufficio è stata sviluppata dai colleghi di madrid e trovo che sia molto bella io ho lavorato anche un po al design system quindi alla all'interfaccia insieme appunto agli colleghi di madrid ed è un esempio di come ce ne sono altri questa invece è quella per il volume del suono e ci dice piano per piano qual è il volume qual è appunto e ci dà un'idea di quanto sia silenzioso o affollato l'ufficio queste sono dashboard che si trovano sia sul luogo che su... ok vediamo cosa è successo ah ok qua c'è una piccola immagine che è saltata però il punto è che appunto per realizzare questo progetto ci sono sono necessarie tre parti quindi la parte di sensoristica di comunicazione tramite l'API quindi tramite internet e poi in locale c'è un computer all'interno della rete dell'edificio che riceve questi dati tramite uno script in python che legge questi dati dall'API facendo una richiesta e poi li comunica a il server di Sonic Pi e quindi fa da tramite fra l'arrivo dei dati i grezi diciamo i numeri e la produzione della musica l'OSC è il protocollo open sound control che è stato inventato per la comunicazione fa strumenti musicali elettronici ed è diventato un onnipresente diciamo in tutti quelli che sono le applicazioni di live coding di creative coding che comprendono musica e visual oppure qualsiasi applicazione che ha bisogno di andare a tempo e di funzionare nello stesso momento e questo ci permette di sentire oggi qui o in qualsiasi altro posto in cui c'è l'accesso tramite la rete a questi dati esattamente mentre vengono in tempo reale mentre vengono misurati nell'ufficio la terza immagine che è saltata era semplicemente un pezzettino del codice c'è Sonic Pi che leggeva questo OSC questa è una vista dell'ufficio dall'alto e quindi si vede si vedono gli spazi comuni sotto lo schermo in cui appunto c'è un'altra opera di creative coding fatta con Touch Designer che sono delle mesh 3D che si smontano e si ricompongono e adesso le vediamo nel video e questa è la zona in cui effettivamente si può sentire questa l'opera che adesso andiamo a sentire in modo da appunto avere un contribuire all'atmosfera all'ambiente che c'è al piano terra quindi all'ingresso alle zone comuni senza andare a impattare chi lavora comunque andare a influenzare chi lavora al piano di sopra al piano soprastante e allo stesso modo questa è una zona in cui vengono raccolti i dati dei sensori come vedremo dopo e quindi riflette la musica che si sente in questa zona riflette esattamente il momento della giornata in cui si sta frequentando l'ufficio e vari parametri di temperatura, umidità, pressione, volume del suono e a breve anche occupazione adesso vi apro questo breve video che abbiamo realizzato montando video di vari momenti della giornata perché come dicevo l'algoritmo è fatto in modo da prendere in input anche l'ora e i minuti in cui ci si presenta l'ufficio ok ho deciso di partire con il video per darvi un'idea generale di come funziona e per passare poi alla demo di SonicPy e quindi a farvi vedere effettivamente il codice il codice intendo la parte che appunto produce il suono l'API, lo script in Python è un semplice script per la recezione di un'API pubblica cioè non pubblica, un'eccezione d'API sulla rete e l'invio di un messaggio SC e quindi quello che vediamo è una pagina di codice Ruby all'interno di questo programma che è SonicPy che è molto comodo e interessante perché ingrandisco un po' il font ci permette di scrivere con questa sintassi minima e minima nel senso di molto semplice appunto fatta di statement e blocchi che si aprono e si chiudono senza particolari parentesi virgole, un linguaggio molto minimal e ci permette appunto di realizzare dei codici che vengono eseguiti direttamente come se avete qualche familiarità con processing piuttosto che gli ambienti di live coding come i VIVI, i Touch Designer abbiamo la possibilità sempre di vedere in diretta quello che stiamo facendo e in particolare SonicPy è ottimo perché risolve dal punto di vista del live coding musicale un annoso problema che è stato risolto in tanti che deve essere stato risolto più volte e questo mi sembra uno dei modi migliori in cui effettivamente è del problema di avere delle funzioni che vengono scritte in momenti diversi ma che funzionano poi tutte a tempo quindi io posso iniziare a scrivere per esempio questa è la batteria voglio che suoni così farla partire, iniziare a sentire la batteria e dopo un po' aggiungere un altro strumento e vederli andare a tempo in questo caso tanto per descrivere brevemente quello che c'è iniziamo con una serie di parametri e quindi abbiamo tra i più importanti semplicemente le varie sezioni di questa musica che è intesa per essere appunto prima parlavo di struttura non un brano tradizionale con introduzione, sviluppo e conclusione ma un flusso che riceve continuamente dati e che quindi continuamente dà un output che varia molto nel tempo ma che è sostanzialmente fatto dagli stessi ingredienti e quindi abbiamo una parte ritmica un background con dei suoni naturali presi dalla natura e suonati in base ai numeri che arrivano delle melodie e gli accordi ciascuno di questi corrisponde un po' a degli aspetti diversi quindi il ritmo è una rappresentazione di che momento della giornata del momento della giornata in quale ci troviamo i background ci dicono quale delle variabili quindi per esempio la temperatura piuttosto che la pressione atmosferica in quel momento sta variando di più è più preponderante le melodie ci dicono esattamente quali sono i numeri che arrivano dall'API e suonano solo quando l'API ha inviato un messaggio ed è stato ricevuto quindi abbiamo questo flusso che viene interrotto a tratti da quei suoni tipo corde pizzicate che mi piaceva l'idea che dessero all'interno della musica comunque un riferimento diretto a come funziona il sistema quindi l'invio e la ricezione dei numeri e poi questo pad di accordi che appunto ha dei parametri che vengono controllati dalla musica ma è un po' indipendente serve a riempire e dare un po' di sostanza appunto perché è un'opera di arte parametrica ci sono un po' di parametri a partire dal primo che è la durata della battuta che è 8 secondi quindi piuttosto lento magari per sentire adesso lo abbassiamo un po' e in base a questo numero viene poi stabilita tutta la scansione quindi si decide come viene divisa la battuta come si producono come si dividono le divisioni e in questo modo si possono creare dei ritmi complessi e quando far partire o piuttosto che disattivare degli altri eventi queste variabili sono volumi quindi abbiamo un po' di è un modo un po' primitivo semplice di fare del mixing quindi avendo queste diverse sezioni poi empiricamente sono andato a controllare a cercare di una quadra per farli risultare come dire equilibrati qua c'è una scala ci sono alcuni effetti alcuni strumenti che usano la scala pentatonica di Do per usarne una e poi ci sono altri parametri che invece hanno a che fare con la ricezione dei dati essendo che sono dati veri abbiamo dovuto effettivamente mappare quello che dicevo prima il numero come arriva e il numero che invece è utile come arriva nel senso quello che arriva dal sensore quindi la pressione sonora quindi il volume che c'è nell'ambiente in questo momento con qualcosa di utile per produrre suoni perché 28,2 in sé non è particolarmente utile come nota piuttosto che un milione e quindi bisognava gestire questo aspetto il modo con cui l'abbiamo fatto è stato appunto fare prima un'analisi dei dati semplice quindi abbiamo calcolato delle medie in modo da poter normalizzare i dati quindi qualsiasi numero arrivi per esempio 35 viene messo in relazione alla media che è il dato medio di alcuni giorni che abbiamo misurato e in base a questo otteniamo dei numeri che vanno da 0 a 1 con tutti i decimali e in base a questo possiamo appunto molto più comodamente sviluppare tutto quello che può servire per generare la musica qua abbiamo appunto le variabili che usiamo alcuni calcoli sul tempo e quindi queste sono delle funzioni che ho provato a scrivere io per fare in modo che ci fosse all'interno della giornata lavorativa quindi dalle 8 alle 17 poi ovviamente questi erari sono un po' più flessibili in questo periodo di lavoro misto smart working in ufficio ma più o meno 8 ore centrali nella giornata e fare in modo che in qualsiasi momento in cui lo script viene eseguito l'ora il giorno il mese il minuto insomma tutti questi aspetti del momento in cui ti trovi diventassero le variabili con cui si va a dividere il tempo la battuta che vedevamo sopra per avere una divisione che risulta sempre varia ma soprattutto molto più lenta e rilassata al mattino appena arrivati e man mano che si va avanti durante il giorno un po' più alla stessa velocità ma un po' più affollato di suoni e più complesso velocemente questa è la funzione che chiama l'API come dicevo questa keyword live loop è molto importante perché fa sì che questa parte del codice può girare in modo indipendente qualsiasi cosa succede al resto la possiamo non le altre funzioni non vengono bloccate dal fatto che qua arrivino non arrivino i dati tant'è vero che adesso la farò partire senza collegarla all'API per ragioni di comodità e abbiamo quindi user real time che serve a definire questo aspetto e sync e quindi abbiamo semplicemente una funzione molto semplice come sintassi ma che fa un certo lavoro perché ci permette di ricevere direttamente questo messaggio e il numero che viene associato e abbiamo direttamente la possibilità di normalizzarle quindi di trasformare il dato da qualsiasi dato arrivi a un valore tra 0 e 1 e appunto fare delle modifiche in modo che si possano poi utilizzare come dati in modo organizzato durante il codice che vediamo sotto ok adesso inizia la parte musicale e quindi ci sono alcuni effetti di compressione equalizzazione generali che avviluppano come si vede in questi blocchi che si aprono col do e si chiudono poi solo alla fine tutto il brano dentro abbiamo una sezione che fa le melodie cercherò di spiegare cosa fanno i vari blocchi senza andare troppo nel dettaglio nel caso poi qualsiasi domanda la facciamo dopo la live quando apriamo la stanza zoom con appunto chi partecipa dicevo questa è la sezione delle melodie e quello che facciamo appena aperto è di resync e quindi questo loop gira costantemente ma quello che succede di seguito viene eseguito quando si verifica l'evento data cioè quando sono arrivati effettivamente i dati tramite l'API in questo modo siamo sicuri che le melodie esattamente quando il dato viene ricevuto tramite internet vengono eseguite a differenza delle altre parti del brano che invece vanno sempre continuamente abbiamo poi come curiosità delle funzioni dice che è un modo semplice che significa dado in inglese che è un modo semplice per generare delle probabilità quindi in questo caso per variare un po' durante il tempo ci sono diverse funzioni che hanno dei oltre a usare i parametri dei dati usano anche un po' la casualità e quindi per esempio qua abbiamo la possibilità di dire esegui quello che c'è in questo blocco di codice se tirando un dado ipotetico in realtà i dati con tre facce non mi risultano esistono ma tirando un numero a caso a fare uno e tre se si verifica uno o due quindi non sempre e poi all'interno abbiamo delle funzioni per scegliere le note e calcolare le durate perché noi vogliamo sapere quanto dura la singola nota rispetto alla battuta iniziale e poi abbiamo appunto una serie di qua ci sono due modi per stabilire due modi per suonare la melodia alla fine poi ho deciso di uno un po' più fantascientifico tipo un termine e questo qua che mi piaceva di più con questo sintetizzatore che imita le corde di una chitarra io sono un chitarrista a tempo per hobby e quindi mi piaceva particolarmente il risultato e quindi sostanzialmente quello che andiamo a fare tralasciando un po' di dettagli è play le note la nota numero n dentro a questo array di note che ho definito all'inizio con questo volume che abbiamo definito all'inizio a questo punto c'è la funzione slip che è un po' particolare bisogna farci la mano all'inizio per capire che le note vengono quando scrivo play la nota inizia e invece che definire esattamente quanto è la durata definisco quanto tempo deve passare prima di passare prima di proseguire con il codice e quindi slip vuol dire siamo arrivati alla funzione play stiamo sulla funzione play fino a che non finisce questo tempo che ho calcolato qua sopra e di nuovo vediamo il calcolo della durata come un numero singolo a cui viene sottratto un numero and casuale in modo da avere un po' di variabilità ma da essere sicuri che sia sempre maggiore di zero chiusa questa sezione sul numero 10 e quella a suo ritmo che è un po' più complessa ma neanche troppo e quello che fa è il discorso che dicevo prima di usare l'ora i minuti e il giorno in cui ti trovi per stabilire in che modo la battuta viene divisa quindi per fare un esempio semplificato è come se io dicessi che a metà giornata la battuta dura sempre 8 secondi ma a metà giornata la voglio dividere in 4 parti perché sono passate 4 ore dall'inizio della giornata lavorativa ognuna di queste 4 parti viene divisa a sua volta in base a quanti minuti sono trascorsi dall'inizio dell'ora quindi se siamo a per esempio 20 minuti che è un terzo di un'ora avremo una battuta divisa in 4 parti ogni parte divisa in 3 parti questa griglia che è proprio una griglia a quadretti viene poi riempita con delle note che a sua volta vengono suonate o non suonate in base a dei rapporti casuali ma che seguono comunque i parametri delle divisioni in modo da avere comunque un senso e ho anche qua impostato vari modi di farlo adesso ve lo farò sentire con dei sample di batteria semplici qua c'è la divisione quindi la divisione in quarti o battute o battiti e poi la sottodivisione quindi per calcolare le note in levare questo approccio è un po' particolare ma a livello semplificato è un po' semplificato nel senso che non mi serviva avere un ritmo così complesso ma ci teneva ad avere un po' di variabilità è un po' quello che si fa con i ritmi Pitagorei se qualcuno è Euclidei se qualcuno li conosce ed è la logica di codificare dei ritmi non tanto in quanti battuti o silenzi ci siano ma come dei pattern e quindi come viene diviso una battuta rispetto a più parametri quindi come viene divisa e suddivisa è un tema molto interessante che si usa spesso nella musica generativa ed è appunto in questo caso un po' semplificato ma è simile le ultime due parti questa la guardiamo ma è molto più semplice delle altre è appunto l'idea che volevamo mantenere visto che usiamo dati reali un aspetto di realtà e non andare completamente verso la musica elettronica e appunto una strazione troppo alta e quindi abbiamo scelto di usare dei sample di suoni della natura e quindi abbiamo dei suoni che hanno a che fare con il vapore per la temperatura il vento per c'è il vapore il vento ci sono delle onde ci sono una serie di sample che ho preso e ho poi montato insieme per avere anche lì dei suoni di background quindi che fossero variabili ma più o meno costanti nel tempo quello che si fa è sceglierne uno per volta in base ai numeri quindi il suono in sé è naturale non viene trattato quindi più di tanto e infatti sono ben riconoscibili ma il fatto che in un certo momento si suoni si riproduca un campione piuttosto che l'altro quello dell'umidità o della qualità dell'aria è dovuto al fatto appunto che quel dato rispetto alla precedente ricezione è variato molto quindi se per esempio a un certo punto nell'ufficio arriva molta gente perché devono fare una riunione magari il volume del suono nella zona aumenta molto e questo fa sì che nel nostro codice sentiremo il suono relativo all'air pressure quindi al volume piuttosto che al volume della passazione del suono che è quello che mi suona nei microfoni detto in italiano piuttosto che gli altri perché gli altri sono rimasti più costanti e quindi in quel momento sono meno interessanti si suppone che non sia successo niente di particolare quindi abbiamo sostanzialmente c'è un array che è definito un vettore che è definito sopra e ha gli indirizzi per questi file di questi suoni e poi vengono semplicemente riprodotti con la funzione questa è la durata questo è quando viene cambiato questa è la funzione che riproduce il sample come diciamo è tutto molto semplice sono i pai dal punto di vista della sintassi infatti anche le parole chiave sono molto intuitive in più vengono fatte una serie di variazioni e quindi visto che il sample viene eseguito per tutta la battuta quindi per 8 secondi in questo caso ho pensato di dividerlo in 16 parti e quindi di controllare un pochino il volume in modo che ci sia un andamento un po' ondulato di questi suoni e non non vadano a coprire tutto il tempo le altre gli altri aspetti della musica l'ultimo su cui passo velocemente è un sono gli accordi che sentivano all'inizio quelli come so cosa possono ricordare forse un organo elettronico che stanno in sottofondo e cambiano che sono un po' particolari ma la logica è di nuovo che noi prendiamo quattro accordi una versione più acuta una versione più grave e poi vengono suonati in modo che sfasino uno con l'altro quindi iniziano quelli bassi poi entrano quelli alti e mentre uno se ne va arriva la versione bassa se ne va arriva quella alta e quindi hanno questo effetto di come onde sonore che si si infrangono e tornano dopo sì ok questo è quanto con questa spiegazione un po' veloce e un po' come dire a volo d'uccello un po' un po' teorica volevo farvi sentire di nuovo i suoni di prima in una versione un pochino più estesa e vi invito se avete voglia a provare a capire a sentire le cose di cui vi ho parlato sapendo che in particolare quando c'è una pausa un po' più lunga significa che sono registrazioni prese in momenti diversi della giornata quindi ce n'è una inizio di prima giornata una a metà una alla sera e una presa a sera tarda quando non dovrebbe esserci più nessuno in ufficio dovreste provare a riconoscere gli suoni tipo bip che compongono il ritmo i suoni naturali la melodia fatta con le corde pizzicate e gli accordi che vanno e vengono ok siamo prontissimi un po' più lunga un po' più lunga Come avete sentito, spero, ci sono le variazioni abbastanza importanti fra l'inizio e la fine, e soprattutto si sentivano, magari, si potevano riconoscere i suoni del bosco, del falò a metà per la temperatura, rispetto a quelli che c'erano all'inizio, che erano relativi alla pressione atmosferica. Sì, si è sentita comunque la differenza. Questo è lo script che gira, giusto perché ne ho parlato e non l'avevo mostrato, come funziona SonicPy, semplicemente c'è la possibilità di scrivere il codice, di schiacciare play, qua vediamo la lista delle cose che stanno succedendo in diretta e una visualizzazione del suono. Se qualcuno di voi l'ha scaricato e non vuole provare nei prossimi giorni, sapete che questo è stato inventato proprio come strumento da Sam Aaron, proprio come strumento didattico e quindi comprende una documentazione scritta veramente bene, soprattutto tradotta in italiano scorevole e molto chiaro. Se non ricordo male ci ha collaborato anche il nostro collega di codice inutile Federico Pepe e permette appunto di partire semplicemente con i primi esercizi e di arrivare a sviluppare cose di qualsiasi complessità, grazie appunto ai tutorial e a tutti gli esempi che ci sono qua sotto, che partono appunto da cose super semplici, brevissime, a delle canzoni fatte finite in cui si può vedere anche come organizzare il codice, come farlo funzionare. È un ottimo strumento sia per iniziare che per appunto costruire cose un pochino più complesse, quindi ve lo consiglio. Se avete domande dopo nella stanza Zoom magari lo riapriamo e lo guardiamo insieme. Allora, detto ciò, abbiamo giusto l'ultimissima slide che era appunto per chi poi ci segue e la condivideremo, in cui ci sono un po' di link. In generale c'è qualcosa sul progetto in sé, quindi il contesto in cui è stato sviluppato, qualcosa sui tool e sulla data sonification. In particolare vi consiglio questo link perché è un archivio che è stato svolto durante un progetto di dottorato del Politecnico e raccoglie tantissimi, tantissimi esempi di data sonification che appunto avendo avuto un po' meno visibilità, un po' meno, nonostante l'interesse è sempre crescente in questo periodo, secondo me è molto utile perché c'è un sacco di ispirazioni, ma anche di, è anche bello vedere realizzate delle cose che uno magari ha un po' così nella testa in modo vago, come avevo io all'inizio di questo progetto, invece ha la possibilità di vedere effettivamente cosa è già stato fatto e costruire su quello che c'è. Va bene. Qua, vabbè, chiudiamo con i link nostri del Fab Lab Remake che ci ospita e ne parlavamo già all'inizio. Va bene. Alka? Ok, tutto molto figo. Io sono curioso delle domande che arriveranno, quindi... Va bene. Allora, siamo alla stanza Zoom e speriamo appunto presto, come dicevi all'inizio, di poterli svolgere in presenza, magari continuando ad avere la live YouTube, in modo che se qualcuno non può venire può comunque partecipare, ma di riuscire ad avere un pochino più di scambio, perché questa comunque è nata ed è sempre stata una community night e quindi questo formato così frontale di spiegare le cose non è proprio la nostra natura dall'inizio, ci stiamo adattando alla situazione, ma ci piace di più quando è più interattivo, come un po' tutto. Va bene. Perfetto. Buona serata. Chi vuole rimanere per fare domande, anzi, vi prego, non scappate, c'è la stanza Zoom. Perfetto.